Proseguono le attività di coinvolgimento e ascolto del territorio organizzate da Gori ed Ente Idrico Campano per condividere alcune delle più importanti azioni messe in campo. Proprio in tale ottica sono state presentate anche ai cittadini di San Valentino Torio le nuove agevolazioni sul pagamento delle bollette dell'acqua deliberate dal Consiglio di Distretto Sarnese Vesuviano dell'Ente Idrico Campano. Si tratta di bonus idrico integrativo Stop Morosità, due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie del territorio per le quali sono stati stanziati complessivamente circa 8 milioni di euro. Si presentano stasera degli interventi sociali a sostegno di famiglie che si trovano in un momento di difficoltà. In un momento difficile dal punto di vista economico e sociale penso che questi siano aiuti concreti alle famiglie. È una misura importante che noi abbiamo messo a disposizione dei cittadini del distretto Sarnese Vesuviano grazie all'intuizione del Consiglio di Distretto, grazie alla disponibilità del gestore Gori e la inseriamo nel quadro della proattività che noi abbiamo come EIC fin dal primo giorno dedicato all'area Sarnese Vesuviana. Ma quello che oggi vogliamo testimoniare è proprio questa volontà di sensibilizzare tutte le amministrazioni e tutti i cittadini affinché questo messaggio di solidarietà, di umanità, di vicinanza e sistema idrico integrato arrivi in tutte le case, in tutte le famiglie, a ciascun cittadino. Oltre alle iniziative, a supporto degli utenti in condizione di disagio economico e sociale, la sinergia tra EIC e Gori si è tradotta in una vasta azione di potenziamento delle reti fognari articolata nel programma Energie per il Sarno, opere che interessano anche il territorio comunale di San Valentino Torio e che sono state illustrate durante l'incontro. Sì, oggi presentiamo l'intervento per il completamento della rete fognare del comune di San Valentino Torio che con un investimento di 4.600.000 euro ci consentirà di portare sul territorio 3,6 km di nuova rete fognaria, ma soprattutto di eliminare gli 8 scariche nel Sarno e nei suoi affluenti, consentendo l'allacciamento definitivo della rete fognaria al depuratore comprensoriale di Angri e quindi restituendo anche quest'altro pezzetto di canali del Sarno ai cittadini e al territorio. Poi presenteremo anche tutti gli interventi sulla rete idrica nell'ambito degli interventi sul PNRR idrico che ci consentiranno di raggiungere anche su questo territorio l'importante traguardo del 28% di perdite di rete, portando la rete idrica a un livello europeo.